Eccolo qua, un uomo che io ammeno da tantissimi anni, è veramente un musicista eccezionale, non sbaglia mai una nota, lo dico sempre, cerco in questo modo di metterlo in imbarazzo sperando che prima o poi sbagli qualcosa e continuiamo a sbagliare. Un applauso anche a lui, bravissimo, alla chitarra, a tutti si vedete l'elettrica, Davide Cammello! Dietro di me, al centro, naturalmente, a tenere le fila di tutta la banda, c'è il motore immobile, ma anche, direi, l'eminenza grigia di questa band, quello che davvero mantiene i rapporti oscuri con i servizi segreti, con il SISD e con tutti quanti, per tenere i piedi di questa band facci suonare. E' anche un tipo che, diciamo che, che sa il fatto suo. Suona benissimo la batteria. Francesco Sapora! Io mi chiamo Riccardo Mori. Suono con questi ragazzi molto volentieri, anche se non sono più dei ragazzi. Io mi chiamo Riccardo Mori. Io mi chiamo Riccardo Mori. Sì. Quante gocce di fai Quante gocce di fai Quante gocce di fai Quante gocce di fai Tutto intorno a costruirà, sembra quasi un mare leggero e leggero il mio pensiero volentare, un'attività di farlo e leggero, sembra un mare leggero e leggero il mio pensiero volentare, un cavallo tende il collo verso il prato, resta fermo come me, faccio un passo, lui mi vede già fuggito, resta fermo come me, faccio un passo, lui mi vede già fuggito, un cavallo tende il mio pensiero volentare, un cavallo tende il mio pensiero volentare, il mio pensiero volentare, un cavallo tende 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 il mio pensiero volentare, il mio pensiero volentare, è il mio pensiero volentare, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.